La Commissione Vigilanza va al Movimento 5 Stelle. Sono stati infatti eletti a Palazzo dell'Emiciclo gli uffici di Presidenza dalle Commissioni Consigliari Permanenti. Il nuovo Presidente della Vigilanza è Pietro Smargiassi, Antonietta Laporta, Sulmonese della Lega, Vice Presidente Emanuele Marcovecchio, Segretario Lega Salvini-Abruzzo. Questi gli eletti delle altre Commissioni. Prima Commissione Bilancio, Vincenzo Dincecco, Sara Marcozzi, Daniele Damario. Per la seconda Commissione Territorio, gli eletti sono Emanuele Marcovecchio, Antonio Blasioli, Luca De Rensis. Per la terza Commissione Agricoltura, gli eletti sono Emiliano Di Matteo, Giorgio Fedele, Antonio Di Gianvittorio. Per la quarta Commissione Sanità, gli eletti sono Mario Quaglieri, Francesco Taglieri-Scrocchi, Simone Angelosante. Per la giunta per il regolamento, gli eletti sono Lorenzo Sospiri, il Presidente del Consiglio regionale, Silvio Paolucci e Sara Marcozzi. La quarta Commissione politica europea è stata rinviata per mancanza del numero legale e verrà riconvocata nei prossimi giorni. La composizione slitta quindi a martedì prossimo quando saranno istituite anche le due commissioni speciali. Una di queste, probabilmente quella dello statuto, andrà alla consigliera regionale ODC Marianna Scoccia in qualità di Presidente.